Il Friul è in una nazione mai nascuta. Questo film conta le storie di tre predici, pari dall'indipendentismo furlano. Pre Beppo Marchet, pre Checo Placerean e pre Antoni Bellini hanno vivuto e lottato contro delle istituzioni politiche, sociali e ecclesiastiche, per difendere la loro lingua, storia e cultura. Tre predici che hanno dedicato una vita ai loro int, tre grandi intellettuali che hanno girato di fatto a poco scienze di sé al popolo furlano. Ma il destino del Friul ha di sé un mondo per il suo conto, ma non per se stesso. Grazie a tutti.